Ciao tesori, eccoci finalmente ritornati con un nuovo video Allora, mi vedete un po' al buio perché fuori c'è lo plumbeo secondo me tra un po' vera giù il diluvio e quindi ho approfittato per registrare perché altrimenti si schiatta e quindi io sappiate che approfitto di queste giornate qua per registrare nuovi video perché se no starei qui a grondarmi invece adesso non sto grondando da nessuna parte sono fresca come una rosa e quindi direi che sia appunto un buon momento per registrare un nuovo video un nuovo video all tutto super estivo come detto dal mio top ma prima di aprire con il video come sempre vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like davvero per me è importantissimo siamo arrivati a 10.000 iscritti anzi li abbiamo superati quindi davvero, cioè, davvero grazie grazie, grazie per me è importantissimo grazie, grazie di cuore vi sono vicino a tutti, tutti, tutti e speravo di fare un video proprio dedicato ai 10.000 iscritti adesso vedremo vedremo se riuscirò ma comunque io intanto vi ringrazio davvero di cuore perché per me è importantissimo per continuare questa favolosa avventura qua su youtube a questo punto partiamo con il video haul allora, visto che si tratta di un video haul super estivo potremmo non parlare di costumi assolutamente no naturalmente tutti i capi li vedrete indossati compreso il costume allora, sono stata contattata da un'azienda italiana Magic Mare temporale speriamo che non arrivi un fulmine perché ho pieno sapere comunque ho scelto questo bellissimo costume ha una dita italiana davvero qualità bellissima qualità alta qualità posso dire mi piacciono questa fantasia con i limoni adoro che ci sia i fiocchetti i nastrini diciamo sui fianchi perché così lo possiamo regolare come più ci piace il retro non è un brasiliano però non è neanche un mutandone come vedete quindi secondo me è molto carino poi mi è piaciuto tantissimo anche la parte sopra vabbè la vedrete indossata comunque è il triangolo e anche qui ci sono i laccetti che appunto è perfetto per poter solo regolare e è provvisto di imbottiture mi aiuto vedo dei lampi allora imbottiture che si possono sono rimovibili ecco quindi io non le rimuovo perché ebbene io non le rimuovo però se si ha molto seno e danno fastidio si può appunto rimuovere voilà ma cioè da una gran luce ho nientato controllo e anche se appunto non sono assolutamente abbronzata al momento sembra quasi che appunto tirino fuori una sorta di colorito secondo me è perfetto anche per i primi giorni di mare perché appunto non siamo abbronzate ecco c'è anche il suo pareo davvero troppo bello è troppo chic perché quando siamo all'ombrellone prendiamo il sole vabbè però secondo me quando facciamo una passeggiata o addirittura andiamo al bar o magari l'aperitivo secondo me è carino appunto indossare un pareo qualcosa un vestitino con prendisole per insomma decenza secondo me ecco oppure appunto un bel pareo e nel caso sia abbinato è davvero top allora la taglia allora le taglie ho notato che sono taglie abbastanza grandi nel senso che arrivano fino alle plus size e nel mio caso ho scelto la taglia più piccola presente nel sito che era appunto una 42 e devo dire veste perfetta veste una S a mio avviso poi poi ho da mostrare due cosine di Femme Lux allora ho due vestitini allora sicuramente questo allora è estivo però secondo me è più un estivo visto che la manica lunga tipo per la discoteca quando sono quelle serate un po' freschine oppure se siamo in montagna e vogliamo comunque vestirci carine però ecco non riusciamo a indossare un toppino schiena scoperta ecco a questo punto ci viene in aiuto un abitino del genere che è un tubino molto 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 carino che sapete io adoro gli abitini di Femme Lux e pensate che io questo ce l'ho anche in altri due colori ce l'ho sia rosso che beige e adesso ce l'ho anche giallo quindi è bellissimo perché ha tutti questi drappeggi sul davanti dietro è liscio è devo dire la verità che è un po' trasparente specialmente appunto nella zona qua posteriore della mutanda quindi consiglio una mutandina insomma nude di quelle senza cuciture perché se no se no non va bene si vede tutto ecco per il resto questa è una taglia S cioè una 8 e nel caso ve lo lascio giù linkato il sito Femme Lux che secondo me riserva sempre belle sorprese ecco eccolo qua poi allora qui passiamo a un altro vestitino sempre di Femme Lux super appunto da locale da discoteca ecco ecco qua faccio vedere sempre l'etichetta allora questa è un cimiglia ha una super minigonna e sopra abbiamo guarda quante lucci che bellissimo cioè quanto è luminoso perdona allora voi lo vedrete indossato perché qua sto facendo un po' fatica eh sì sto facendo un po' fatica eccolo qua vedete si allaccia dietro al collo eh oddio c'era un fulmine non entrare nella mia finestra sicuramente allora c'è questa carinissima apertura sul sotto il seno ecco e poi è tutto appunto pregno di questi cut out la schiena totalmente nuda voi sicuramente così non capirete proprio niente però ci sono le foto passeranno foto e immagini e il tessuto è morbido l'unica cosa è questo è davvero molto striminzito quindi ho ordinato una S però se siete più alte di me se siete 1,70 ordinate la M quindi la taglia 10 perché altrimenti cioè la gonna vi arriva sopra il sedere ecco quindi passiamo a Tallywile non so se dice così Tallywile while Tallywile ok allora stai andando questo toppino che è bellissimo lo vedrete comunque sempre nelle foto stai andando questo toppino davvero carino di Tallywile vedrete meglio sicuramente nelle foto e negli altri video allora ecco provando su di taglie Tallywile è insomma è un sito sono un po' teorizzata comunque dicevo penso che lo conosciate un po' tutti secondo me ha delle chicche davvero molto interessanti e non è proprio diciamo come i soliti so per dire Zara abbiamo tutti qualcosa di Zara e alla fine siamo in sito tutte uguali devo ammettere che mi è sempre piaciuto Tallywile e ho anche acquistato nel tempo e quindi comunque arriveremo alla fine del video allora ho dovuto tirare giù la tapparella perché a parte che appunto pioveva di rotto e poi c'erano anche i fulmini comunque stavamo dicendo il completino di Tallywile state in occhio con le taglie ecco l'unica cosa è questa se appunto siete alti 1,70m sono corte quindi è meglio prendere una taglia M a mio avviso poi magari organizzarsi dopo a stringere oppure magari indossare una cinturina ecco ad ogni modo i tessuti profumano cioè veramente sono profumati io quando ho aperto il pacco infatti l'avevo detto su Instagram ecco se non mi seguite vi invito a farlo mi trovate comedia e vi avevo appunto detto che il tessuto cioè proprio emanava un buon odore allora adesso io vado a vedere il tessuto è poliestere però emanava un buon odore di cioè di tessuto buono non so come spiegare wow continuare temporale viene poi per finire il nostro video temporalesco allora voglio farvi vedere un altro vestitino che ho preso sempre su tali gualli allora troppo carino cioè oh non voglio macchiare il rossetto ok cioè questo è bellissimo questo è un abitino proprio anche da città da uscire non so c'è la cena un aperitivo eccolo qua questo ho preso la S ai prezzi non vi ho detto questo è costato 39,99 ok e questo ho preso una S però vi dico questo sembra cucito addosso perché davvero sta perfetto anche sulla vita non è lento sulla vita come lunghezza in questo caso è giusta perché è comunque un abito corto però come vedete l'abito ha una gonna bella ampia ed è ed è appunto lunghetta non è raso chiappa ecco per intenderci poi c'è anche la sua cinturina eccola qua è troppo carina si confonde con l'abito però c'è quindi si può anche decidere appunto di stringerlo e poi la scolatura è così la scolatura a cuore e anche questo questo credo che sia cotone sì cotone 100% quindi ecco proprio un buon tessuto devo dire se lo trovassi magari allora lavare 30 gradi io non trovo più sì 100% cotone quindi se non so se lo vedrete comunque fidatevi che è così allora vi dico anche che il prezzo poi vi dico il prezzo della gonna che è 22,99 e il prezzo del top che dovrei avere ancora l'etichetta perché appunto giravo dei contenuti le video ah no non lo troverò mai magari ve lo scrivo forse è meglio invece di fare le contorsioni no allora allora questo costa 25 euro qualcosa la gonna è 22 ce l'ho fatta comunque è stata durissima adesso sto sudando spero che appunto questo video all estivo vi sia piaciuto perdonate per l'inconveniente appunto temporalesco comunque niente ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao bellezza ciao 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 ciao